Benvenuti amici di Leggere a Colori per questa nuova diretta. Anche quest'oggi abbiamo esaminato per voi, abbiamo letto in anteprima un nuovo libro, ovvero abbiamo letto Beata Gioventù di Vincenzo Galati, un'edizione di questo romanzo pubblicata dall'editore Oachmond Publishing, scusate la pronuncia, ma è un editore che ha sede in Germania e pubblica anche testi italiani. Il romanzo che abbiamo letto per voi è un giallo, direi un ottimo giallo scritto in una maniera impeccabile, è ambientato proprio in Italia, in particolare a Genova. Questa storia per atmosfere, create, per descrizioni, mi ha ricordato molto i classici di Agatha Christie e questo è davvero un valore aggiunto a questa storia, che comunque è una storia che vi lascia sempre con il fiato sospeso e la curiosità accesa. Il protagonista finalmente è una donna, il romanzo quindi ruota attorno alla sfera femminile. Lei è Olga, la protagonista, e la storia inizia proprio parlando di lei, che si diletta nel risolvere un cruciverba, che poi riesce subito a risolvere. E questo mette in risalto le sue caratteristiche, l'astuzia, l'intelligenza, la passione investigativa, che poi cresce pian piano nelle pagine di questo libro. In effetti, andando avanti con la lettura, si scoprirà che lei ha già avuto modo di usare le sue tecniche investigative. E come vi dicevo, la donna sta facendo questo cruciverba, una volta appoggiato tutto nella scrivania, vede un giornale dove c'è un annuncio particolare. Questo annuncio dice Potete avere delle ricchezze in cantina e non saperlo. Quindi così recita questo trafiletto, che accende subito l'interesse di Olga, e il trafiletto è un annuncio del negozio Arte Antichità, un negozio che sicuramente conoscete anche voi, i soliti negozi di pulci, no? Dove si vendono delle cose usate, dove si vanno a far valutare dei beni antichi. E cosa succede? Che si ricorda di avere questa teiera di peltro di fine ottocento, e ricorda che il suo compagno gli parlò di questa teiera, vantandolo come un cimedio di famiglia, che poteva essere appartenuto addirittura ad Umberto I di Savoia. Quindi lei ne approfitta, dice adesso voglio sapere quanto vale, magari abbiamo un tesoro in casa e non sappiamo quanto vale. Cosa succede? Lei si recca lì nel negozio affollato, un po' si scoccia per la presenza di tanta gente, di queste file immense, e proprio lì però nel corridoio incontra, vede, quando lei si siede là in attesa, Anna Pessagno, una sua amica di vecchia data. E cosa succede? Le due parlano insieme e iniziano un po' a raccontarsi del tempo passato, fino a quando Olga, incuriosita, gli chiede come mai era lì la donna, allora gli parla di questa moneta d'oro. E qui la storia si fa ancora più intrigante. A quanto sembra questa moneta d'oro potrebbe avere anche un certo valore. E proprio dal libro voglio leggervi quindi questi momenti dove lei gli chiede ma dove l'hai trovata, di chi era, e dove poi Anna dà delle risposte. Ecco, in effetti dice Dove l'hai trovata? È una lunga storia. Anna scosse la testa, continuando a guardare la moneta che aveva in mano, mentre Olga aspettava pazientemente la risposta. Te l'ha lasciata Ermanno? Domandò infine, visto che l'altra non si decideva. Sì, me l'ha lasciata Ermanno. Sollevò lo sguardo. Diceva sempre che non ne sapeva niente, che gliel'aveva lasciata in custodia a Kruger. Olga frugò rapidamente nella memoria per rintracciare in qualcuno con quel nome, ma non ci riuscì. Kruger? L'altra sembra sorpresa. Sì, la persona per la quale Ermanno lavorava a Stoccarda, dove la sua famiglia era emigrata. Non te ne ho mai parlato. Ermanno lavorava con lui già da ragazzino e ha continuato fino al 39, pochi mesi prima che le SS andassero a prelevarlo. Kruger la diede a Ermanno perché gliela tenesse, nel caso gli fosse successo qualcosa. Gli diede anche dei documenti, ma Ermanno non ricordò mai dove li avesse messi. Dopo la guerra non si ebbero più notizie di Kruger, ma Ermanno aveva lasciato il suo nuovo indirizzo a Stoccarda prima di tornare a vivere in Italia nel 48. Ecco, quindi da qui si capisce che il marito di Anna è morto e lei all'inizio non ha bisogno di vendere questa moneta come lei stessa dice perché aveva riscosso un'assicurazione sulla vita. Però trovandosi poi in una situazione di bisogno ha deciso di far valutare questa moneta. Infatti sempre tra le pagine del libro lei dice, rivolta verso Olga, dice, non so ancora esattamente cosa fare, non ho idea di quanto valga, non so neppure cosa sia. Credi che dovrei venderla o no? domandò con voce incerta. Olga alzò le spalle, non c'è nulla di male a chiedere un parere, quando saprai quanto vale potrai decidere. Ecco, quindi le donne sono vicine, stanno parlando e ad un certo punto Olga si accorge che l'esperto d'arte nella sezione dove lei deve portare il suo bene prezioso è arrivato. Quindi dà una pacca all'amica, la saluta brevemente e si sposta per andare verso quell'ufficio. Quando Olga si sposta ed è proprio davanti all'ingresso, quando sta per entrare, si accorge che è un uomo molto elegante, con i capelli rossi, si è avvicinato ad Anna e parlano di questa moneta perché poi in effetti lei vede che Anna gliela mostra. Ecco, in questi pochi istanti Olga entra dentro ma subito, quasi dopo tre minuti, lei riesce, insoddisfatta dell'offerta che gli ha fatto l'esperto d'arte e voltandosi di nuovo verso Anna la vede lì seduta. Cosa succede? Lei si avvicina, ci scambia due parole e vede che non ha nessuna risposta. Sembra quasi addormentata l'amica. Ed è scostandogli un po' il vestito che Olga si accorge di questo rigolo di sangue che si allarga poi nei vestiti e quindi capisce che Anna è stata assassinata. Da qui inizia questa storia, quindi prende quota. il racconto inizia ad aprirsi al lettore. Quindi Olga si ritroverà faccia a faccia con il commissario Traxino che è un uomo molto elegante. In effetti Olga non ha mai visto un commissario così elegante. più elegante dell'amico commissario Schiappacasse detto così. Dei nomi un po' particolari nella narrativa di quest'autore. La donna inizia a fumare nervosa e a un certo punto si ritrova a rispondere a delle domande anche un po' offesa da questo commissario che la tratta un po' con leggerezza. Lei magari vorrebbe aiutare, vorrebbe fare qualcosa di più verso soprattutto la morte della sua cara amica però non rivela a questo commissario inizialmente non rivela delle cose molto importanti come il fatto della moneta d'oro o del racconto che gli ha fatto l'amica. In men che non si dica Olga si ritroverà quindi a indagare in questa storia. Cosa fa? Come una signora del giallo una signora Fletcher italiana inizia ad indagare si reca subito nella casa di Anna cerca degli indizi in men che non si dica mette su un'associazione investigativa che ad esempio insieme alla sua amica Berta prima Olga riesce ad avere una lista di personaggi a cui sarebbe potuto interessare molto questa moneta d'oro che poi si scoprirà che sono le le 50 lire storiche del 1864 le Vittorio Emanuele che valgono veramente una cifra incredibile si parla di 500.000 dollari ma forse anche di più e quindi si mette un po' in società con Berta la sua amica si dividono questa lista e da qui iniziano a cercare un uomo dai capelli rossi elegante in effetti il possibile il potenziale assassino non voglio svelarvi altro di questa storia perché è davvero una molto intrigante sono sicuro che questo sia un libro per l'estate ovvero per da leggere sulla spiaggia rilassati e con una storia che vi lascerà con la curiosità sempre accesa e sul pezzo quindi voglio fare i miei complimenti a Vincenzo Galati e all'editore perché hanno messo su davvero un ottimo libro io vi saluto e vi ringrazio per il tempo e come sempre vi porto all'attenzione anche della recensione scritta dove troverete anche delle ulteriori curiosità nell'approfondimento un saluto a tutti e a presto